Forse lo sapremo nelle prossime ore, dovrebbe essere un profilo a metà fra tecnico e politico. Io credo che più o meno su tutto il resto la coda era stato raggiunto, ormai si tratta di aspettare solo poche ore e vediamo. Siamo tutti molto curiosi di vedere questo governo come partirà, con quali programmi realizzabili e quali invece meno realizzabili, però insomma giudicheremo in corso d'opera senza pregiudizi e senza preconcetti.